Musica Bella a tutti i folli e bentornati su DarkFollyChannel Che è un nuovo video su Counter Strike Global Offensive E oggi sono qui a portarvi una cosa un pochino diversa sul canale Ovvero il primo open case del canale Che senza l'aiuto, il supporto dei Mixid Ovvero un mio iscritto non avrei mai potuto fare Dato che come vedete la visuale qua davanti Mi ha regalato ben 15 chiavi Falcon e 15 casse Falcon Anche se già ce le avevo Mi ha regalato anche le casse ragazzi Quindi ovviamente ringraziatelo qui sotto nei commenti Perché senza di lui non avrei mai potuto fare una cosa del genere Ovviamente qui sotto in descrizione troverete il link per tradare Anche se non mi avete tra gli amici Quindi mi potete inviare tutte le casse che non vi servono E tutte le armi che non vi servono Altre il link è qui sotto in descrizione Ovviamente ragazzi non so se Beh non so bene se farò oggi Aprirò 8 chiavi E magari dopo domani ne aprirò altre 7 Dipende da quello che andrò a trovare oggi in questo episodio Vi ricordo anche lasciare un pollicezzo in su Se volete vedere magari altri episodi di questo tipo Di magari altri open case Vi ricordo anche lasciare un commentozzo Non lo so con qualsiasi cosa mi volete chiedere E adesso iniziamo questo episodio Dove ragazzi sono davvero emozionato Perché voglio trovare qualcosa Quindi apriamo la prima cassa Facciamo usa la chiave Come vedete innanzitutto possiamo trovare Galilale, AR, Glock, no vabbè cose abbastanza inutili Poi quello che conta di più è che c'è L'SG vabbè 553 fa abbastanza schifo Poi c'è la K Aspettate che devo togliere il comando qua come si chiama Net graffo Perché ovviamente si mette avanti Non vi fa vedere molte cose Se ho trovato la K Vendetta sottomarina La WP per bestia E coltello falchion Che è vero non costa tantissimo Però a me piace Quindi Apriamo questa prima cassa Usiamo la chiave E vediamo che cosa troviamo Glock 18 Becco Bunsen Vediamo in che condizione è Non mi sembra neanche tanto rovinata Mi sembra nuova di fabbrica Come si va a vedere le cose che ho appena droppato E qua sotto testata sul campo Non vale niente Però vabbè come prima cassa ci sta Quindi andiamo realizziamoci Facciamo Non lo so Apriamo questa Apri cassa E vediamo che cosa riusciamo a trovare qua dentro Incrociamo le dita ragazzi Alzate le mani per me Per passarvi la vostra energia Galilere Botto del raggio Cazzo Abbastanza rovinata Questa Vediamo dov'è Testata sul campo Pensavo fosse segnata dalle battaglie Adesso Occhi chiusi Voglio aprire questa cassa Ok Apriamo questa cassa Dai fammi trovare Non lo so Un SG553 Che mi piace Il Cyrex Ti prego Ti prego Fammi trovare qualcosa Perché Il Pino Manta Vabbè Tanto per cambiare Perché la gloff Non potevamo averla Mi sembra in condizione Che testate sul campo Che dici Ancora non ti abbiamo sentito parlare In questo episodio Perché abbiamo bisogno Della tua energia Per trovare qualcosa Non lo so Non lo so E' stata sul campo Quante casse abbiamo aperto Per ora Tre Vedete ragazzi Qua è un casino Di casse cromatiche Due pagine di casse cromatiche Quasi tre Vabbè Magari più antifrono Pinchese Soltanto di casse cromatiche Comunque Apriamo un'altra cassa Non la schifo questa La prossima La schifo Vediamo che cosa c'è L'hack è fissato a schifare Le casse Ovvero a non vedere Che cosa No No ma No AWP per bestia C'era No Perché ho trovato il nuovo Consumato Manco sembra Vediamo E' consumato Nuovo di fabbrica Look Quindi vale 400 euro Vabbè Apriamo come si fa a schifare Bale spaziatrice Ah torna tu Proviamo ragazzi A schifare Stat 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 Trac L'Italia Però non skipperò Nient'altro ragazzi Perché Recuperare Ah beh Questo è normale È stato sul campo Vediamo quanto vale Secondo me non vale quasi niente Mentre ragazzi Non andrò a skippare Le varie cose Perché rovinano Tutta la suspense Vale 70 centesimi Vabbè Meglio di niente A quante cassa siamo A 5 Quindi già siamo A un terzo Ragazzi A un terzo Dell'hack è in case AWP per best ragazzi Grossi emozioni Ma non l'abbiamo trovato Adesso Che le dici Che cassa abbiamo Racco Faccio decidere a te Questa qua Va bene Usiamo la chiave Siamo convinti No Ora la uso Dai Mi prego Dammi qualcosa P90 elitario Ragazzi Ve li regalo Sto P90 No mi sembra rovinato Guarda qua Quanti P90 Magari posso fare un contratto di scambio Alla fine Sto P90 Sì Ah no Usura minima Usura minima Dov'è qua Acquisizione No non è qua Acquisizione Così si vede Vabbè Per il momento abbiamo trovato queste 5 cose Anzi 6 Non so contare Sblocca la cassa Così Sbam 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 Dai Non chiedo tanto Per favore Un Mp7 Ah no Un P45 rivolta Mp7 Manco Stattrac Tutta rovinata Però ragazzi Ancora non è detto Nusa Potremmo trovare qualsiasi cosa Segnato dalle battaglie Lack Segnato dalle battaglie Apriamo un'altra cassa così Quale apro Lack? La penultima La penultima Quando vi è passato quella WP Ero davvero felice Ma Niente ancora Vabbè M4 4 Daimus Salvato Vediamo Testato sul campo ragazzi Vabbè Già abbiamo trovato un M4 Ci siamo staccati dalla Wump Non è neanche tanto brutto Dato che a me mancava un M4 4 Magari se lo trovano di fabbrica Star Trek Potrei essere leggermente più felice Che dite Però è sfigo qua questo simbolo Che ha dove si mira Non è brutto Meglio di niente Dai Lack Adesso faccio il cito da te Quale chiave usi innanzitutto Allora Io avrei la quarta Con l'ottava cassa Aspetta Ottava cassa Quindi 2 4 6 Questa qua Questa qua ragazzi Con cosa ti trovi Qua dentro è mio Ti prego Fammi trovare qualcosa Ti prego Gabe Ma porco Ma perché è un M4 Wump 45 Rivolta È rivoltante È rivoltante Il test Segnata dalle De volte Segnata dalle battaglie Il contratto di scambio Alla fine ci sta Però non voglio usare questo No no Quanto manca? 1, 2, 3, 4, 5 6 casse ragazzi Mancano L'abbiamo consumata Già più della metà Quindi col cavolo Che faccio un altro episodio E me lo butto tutto qua E cerchiamo di arrivare E cerchiamo di arrivare Fino alla fine La speranza Di riuscire a trovare Qualcosa di decente Mentre ragazzi Gli opening case Non possono andare Sempre bene Quando ne apro uno Trovo sempre i coltelli Qualcosa di decente Questo è il primo opening case Vediamo Se riusciamo a trovare qualcosa Ci dobbiamo demoralizzare Ancora abbiamo Grosse speranze Più o meno Ancora non ho visto passare Né un coltello Né una cosa rossa A parte la WP per bestia Madonna Quella che qui si usciva Fatto Io non ero Consumata Consumata ragazzi 3P90 2 Glock 2 Wump Vediamo Un'altra nuova Mi trovo Spero di no Adesso esce Ma non ne passiamo Anche fama Su È vero Stai che se ne sono passate Gli abbo è molto tirti oggi No 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 La CZ Vale un sacco Quella valeva Usura minima Statter Che faschi No ragazzi C'era la CZ Non so quanto valeva Non so se l'avete Beh l'hanno vista tutti Penso Questa CZ Statter Dov'è Questa qua Quella con le banane Sembrano banane Però non sono banane Rivestimento giallo A caso Vabbè ragazzi Rimancano le ultime Aspettate non le ho viste Ultime quattro chiavi Una la faccio aprire a te Che sarà questa Vai Lack No Addirittura Sentiti i rumori in sottofondo E la serie di Lack Fa davvero davvero Trossi rumori Lack ma perché devi skip Lui è fissato con lo skip Fatto lo scherro Fammi dire che anche queste Perché Segnato dalle battaglie Segnato Ma è uno skip umano Ah sì ma quante tir Ok Ultime tre chiavi Nulla Ancora Cioè può cambiare ancora tutto Tutto Cortello Ti prego Ti prego Ti prego Dai dai Ma per troppe glock Becco busen Becco bunsen Ora non mi sembra rovinata È stato Cioè quest'almo Ultime due chiavi Lack Per forza Dai ma fammi Fammi trovare questa k Questa Cioè ragazzi non vi piace Io devo ritrovare un'altra Statt Anche Statt Cioè non mi dispiace come cosa Alzate le mani per me ragazzi Sono le ultime due chiavi Alzate il braccio in aria E passatemi la vostra energia Mi servite Mi servite Ti prego Mi trovare qualcosa Sì 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 Cazzo Gesù Dimmi che non mi sabbica Per favore Gesù Oh No Consumata No Però l'ho detto Ragazzi volevo questa Va bene Va bene Non lo so quanto vale Adesso vediamo subito Non so ragazzi Se riuscirete a vederlo dal video Quanto valgono le varie cose Perché non registra La hood di steam Vale 25 euro Vabbè Già ci siamo pagati Quasi tutte le chiavi Questa cosa si potrebbe dare Lack Però non lo so Ultima chiave ragazzi Adesso già da ora Per favore Già da ora Alzate le braccia Alzatele Tutti Tutti con le bracci in aria Anche col telefono Lasciatelo Alzatele Dobbiamo Con le casse Ce le siamo ripagate Comunque Dobbiamo riuscire A trovare qualcosa Ti prego Bracci in aria Per favore No Vabbè Nova ranger Vabbè Un rosso almeno L'abbiamo trovato Anzi due Dimmi che erano queste Un po' Cos'è Consumato Allora quante cose abbiamo Per il contratto Uno Due Tre Quattro Cinque Sette 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 Otto Nove Esce una viola Come si fa il contratto di scambio Non l'ho mai fatto ragazzi Ma aspetta Spera fammi vedere che cosa esce Come si fa a vedere cosa esce Vai sull'armi Queste sono Tutte blu Scure Quindi potrebbe uscire Con una di queste Di queste È rossa no? Non buscire Peccato Vabbè ragazzi No ci proviamo È il primo contratto di scambio Contro Il primo contratto di scambio E faccio in vita mia Tanto non sono armi Con le viola Con le viola Allora Consumata Seleziona Ok qua Ora spunto No C'è la pagina Usiamo soprattutto Quello che fanno schifo Tanto l'usura Non va a cambiare la cosa Giusto? Ah si Non lo potevi dire Vabbè Glotte Stato Stato Il galli Fa abbastanza No Spera Prima buttiamoci le segnate Tanto Ok Che ci metto Il galli Il sicuro Io non ce l'ho Il galli Lo si Si ce l'ho Ok ragazzi Procediamo Dark folle Dov'è? Fa Cerchiamo di disegnare Perché ragazzi Qua per chi non l'avessi capito Spunta Che cosa trovo Quindi più lo scuriamo Più Sorprese Esatto Ravina l'atmosfera Poi La firma Qui Esatto Tutti I miei autografi Saranno così Ora qua Spuntano tutte le armi Che ho messo Fatta abbastanza figa Io l'ho visto soltanto Nel video Fare un contratto di scambio Questa è la mia prima volta Grazie ragazzi Approvato Vediamo Testato sul campo Va bene Trovate due No Ce ne ho due Viola Due Ne ho soltanto due Vabbè ragazzi Ce l'abbiamo provato Abbiamo trovato Questa cappa Non ci possiamo lamentare Ok ragazzi Quindi questo video Finisce qui Abbiamo trovato Come in definitiva Queste Cinque armi Su 15 Siamo trovati Anche questa cappa Che ci ha un pochino Ripagato Da quello che non abbiamo speso Dato che mi sono state regalate Queste chiavi Vi ricordo come sempre Lasciate tanti like Se i commentozi Qui da Darkfall Il like è tutto E ci vediamo alle 17 Con un nuovo video Ciao 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 ciao